Salve a tutti da Cia Confezionatrici. Anche quest'anno ci troviamo qui per farvi i nostri migliori auguri di buone feste, di buon Natale e di felice anno nuovo. Quest'anno è stato un anno un po' particolare, un po' duro su tanti aspetti e su tanti versi e proprio per questo noi ci siamo impegnati ancora di più, abbiamo perseverato ancora di più per poter avere successo fino alla fine dell'anno e ci siamo riusciti. Ringrazio anche tutti i nostri clienti vecchi e nuovi per la continua e costante fiducia e per la collaborazione che ci avete dato. Ringrazio! 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 Freue Weihnachten und glückliches neues Jahr So Merry Christmas and Happy New Year to everyone Joyeux Noël et Bonne Année Joyeux Noël et Bonne Année